Musica Hello guys, Ranjana here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Oh, siamo finalmente di nuovo qui sulla Exit E dopo la miria degli commenti che mi avete lasciato nello scorso video Ho capito, grazie a voi ovviamente, che nel vulcano hyper strano e pieno di minerali che abbiamo trovato l'altra volta C'è effettivamente un dungeon, almeno queste sono state le vostre parole Quindi ci stiamo dirigendo, ci eravamo lasciati fuori dal dungeon se vi ricordate E ci stiamo appunto dirigendo verso il vulcano che dovrebbe essere stra 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 pieno di roba strana E soprattutto di un dungeon che per il momento, stranamente, visto che comunque abbiamo esplorato un bel po' Non l'avevamo trovato e devo dire la verità, sono contento perché una volta tanto riusciamo a trovare qualcosa Che ancora non abbiamo esplorato in questa diamine di Exit Che ormai sta arrivando agli sgoccioli Sta arrivando agli sgoccioli, siamo lì lì Un'altra cosina volevo dirvi appunto, sempre riguardando la Exit Che sono andato a informarmi su il livello 8000, meno 8000, là che roba è Mi sembra che era 8000 E c'è della roba figa C'è della roba molto figa Da dove cavolo si entra? Si entrerà da su immagino, no? Perché, 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 perché sono caduto così tanto se si entrerà da su? E vabbè Comunque, dicevamo Mi sono andato a informare su quello che è il livello 8000 E rotti Ed effettivamente c'è della roba figa Ma non so quanto possa essere interessante da vedere in video E' bello, perché per l'amor di Dio è bello Però da quanto ho capito sono solamente i dungeon Che abbiamo già visto, ma potenziati Merda, per quanto non sono caduto nella lava Oddio Ho l'armatura che se ne sta andando a puttane Bro, non penso sia questo il miglior modo per fare un dungeon nuovo, eh Però, però, a noi non interessa Lo sapete che ce la facciamo perché Che cazzo sono questi spawn Chiedo scusa Che cazzo spawnate voi Vabbè, e noi andiamo Noi andiamo belli spediti, tranquilli, col piccone in mano Più che altro, perché non spawnano? Cioè, io ci sono Quindi, se mi volete I diamanti Diamanti, non si vedrà un kaiser Datemi le torce Datemi le torce Oh, vabbè, qua si vede perché c'è un po' di lava Salve Salve, salve, salve E dovrebbe essere fatto a scala Sì, infatti è fatto a scala Quindi scendiamo così Questi, io vorrei capire che roba Ok, sono dei nani Nani Droff, eh Droff dovrebbero essere i nani Quanto danno Quanto danno Ah, non vi faccio danno Perfetto Ah, no, no, aspettate Sì che vi faccio danno Ah, no, non gli scala la vita Scompaiono Che, che vu Ma mi spiegate che cazzo sta succedendo Non gli scala la vita Poi a un certo punto prende E fa No, ma no Ma perché non ci vogliono far scalare la vita Ma sì Scompariamo E adesso, boh Esplodono con le frecce Ma secondo me stava tirando Una di quelle laggate Tipiche della Exit Che sapete, no Che ogni tanto arriva Fa Bitch, I am fucking lag E quindi Arriva lì Fa Sì Rendiamo tutto più divertente Con un po' di lag A proposito di lag Non so se avete visto C'è un video molto Molto famoso Possiamo dirlo Possiamo definirlo così Immagino di sì Che sta spopolando appunto Sul web da un po' Che fa vedere Praticamente una partita Di ping pong E diverse situazioni Della vita reale In cui Una persona utilizza Al posto degli occhi L'Oculus Rift In pratica Una persona normale Gioca contro un'altra Che ha Che sta utilizzando L'Oculus Rift Per guardare Tramite una webcam Tutto un macchigegno strano Io sto cercando Il legno intanto Però tranquilli Non sto aprendo le borse Così a caso Mi sa che sono tutte vuote queste Non abbiamo legno Quindi niente torce Perfetto E niente In pratica Fa vedere Ma questa è un'anima Ma mi sa No non ci abbiamo La cosa per adesso È tutta a casa E vabbè E in pratica Fa vedere Questa figata Che C'è il tipo Che usa l'Oculus Rift Che ovviamente Vede tutto in ritardo E cerca di spiegare Con quel video Il problema Del delay E del ritardo Su internet Del lag Del più comunemente Chiamato Fassidiosissimo Lag Che affligge Soprattutto noi italiani Le nostre connessioni Bellissime E mi sono Spisciato alle risate Quindi se Volete Cercatelo su internet Si dovrebbe chiamare Tipo Lag With Oculus Rift Qualcosa del genere Una cosa Molto semplice Molto easy Da trovare Io le mele Me le prendo Perché ce le ho già E non c'è Eh le mele Sono un segno di vita Bellissimo Le mele sono epiche Allora Io sto registrando In questi giorni In cui si sta svolgendo Il Napoli Comic Con Ovviamente Vi ricordo Io sono presente Tutti i giorni Quindi se siete Qua Delle parti di Napoli Venitemi a trovare Che mi fa un sacco Piacere Dai Voi dovreste vedere Questo video sabato Sì Questo video sabato Anche perché Oggi che sto registrando È venerdì Spero di riuscire A caricare per domani Sì però Se voi vi curate Poi spawnate pure Scusate un attimo Io Ho detto che non voglio usare Più lo spadone L'arco per il momento Lo utilizziamo Poi si spaccherà E faremo tutti Una brutta fine Perché senza quell'arco Penso che davvero Saremmo spacciati E quello è morto E la Qualcosa Mi date Oh torcia Perfetto Stavo dicendo Mi date delle torce Mi hanno dato delle torce Fancy Lamp White Lamp Wood Questa mi interessa Le torce non ci servono Ma lo zeletto Ce lo prendiamo Questo è a posto Questo pure E lo string Anche Mi sta venendo A sbadigliare Come al solito Lo sapete che Ormai è proprio È proprio prassi Cioè io O non dormo Perché lavoro O non dormo Perché devo registrare In pratica Non dormo più Ragazzi Io e il letto Abbiamo litigato Siamo entrati Come si direbbe Su facebook Siamo in una situazione Complicata Una relazione complicata Esatto È una cosa Assai strana Anche perché La mattina C'è quel rapporto Tra me e le lenzuola Non so Se ci avete Oh porco cane Quello speciale Fermi un attimo Dicevo Non so se ci avete Mai fatto caso Sono che La mattina Il letto è così comodo Ti avvolge Con le sue coperte Calde Il materasso morbido Che Che quasi sta Gridando Dice Randy Non te ne andare Resta qui con me Ancora un po' E tu come puoi dire Di no A una richiesta Del genere Non puoi Semplicemente Non puoi Ed è una cosa Fichissima E quindi no Però siamo comunque In una situazione Complicata Perché la sera Ha dei seri problemi E quindi Purtroppo capita Capita E brothers Non so quanti di voi Sono abbastanza Nottambuli come me Ma penso un bel po' Perché ogni tanto Vi ritrovo a seguire Mi streaming Alle 4 di notte Quindi Quindi penso che Ci sia gente Che come me Ha problemi Nottambuli Con il letto Poi di giorno No di giorno Tutto più bello Tutto più comodo Però di notte Abbiamo questi problemi Chiamati I don't know Chiamati Non faccio un cazzo Nattina la sera Nel weekend E quindi La notte Non dormo Più o meno Penso che il Il concetto base Sia più o meno Quello O semplicemente Non riuscire a dormire Che potrebbe anche Essere un altro Grosso problema Io adesso Vorrei capire Quanto dobbiamo scendere Ma quello cos'è Quello è un mob Che abbiamo buttato Prima Interessante Sì ma io Quelle chest Che volano Come le prendo Cioè mi date Un paio di ali Un jetpack Un jetpack Potrebbe essere utile Ma avete un jetpack Da darmi Va bene anche Quello di L'industrial craft Non mi serve Per forza La power armor Guarda Mi va bene tutto Intanto Funziona lo stesso No eh Non ho È caduto giù Ma poverino Però se continuo così Cado pure io Dicevo Noi ci va bene tutto No ci accontentiamo Anche di un miserissimo Jetpack Della industria craft Cavolo Quanto mi manca L'industria craft E a proposito Di industria craft Nell'ultimo video In cui vi chiedevo Un po' E li vostri Li vostri L'italiano È davvero Raggiunto Epici Epici punti Di epicità E Non so neanche Cosa dire E dicevo L'ultimo video In cui Ah Questi sono Interessanti No va bene Lasciamo qui L'ultimo video Vi chiedevo Un po' Le impressioni Su appunto I video Che stavo facendo La serie E eccetera eccetera E mi avete un po' Detto che Exit Giustamente Sta diventando Oh signore Dai Fammi parlare Sta diventando Un po' Monotona E la cosa Effettivamente Ve l'avevo detta Anche io Ve l'avevo accennato Tempo fa Non so se vi ricordate Proprio quando Ho iniziato la Exit Che lo facevo Una volta Più o meno A settimana Due massimo E vi ho detto Che mantenevo Questa cadenza Proprio perché Così La serie Non risultava Stancante Non risultava Monotona Qua voi non vedrete Un cazzo Io intanto Spacco un attimo Qua roba Non ci abbiamo più torce E la cosa Ci piace davvero Un sacco Vero? Sì 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 Davvero È bellissima Davvero Sono contento No 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 Fatemi usare Questa Questa spada qua Di questa rossa Perché è figa L'abbiamo fatta Fate me la usare Più che altro Non stiamo mangiando La cosa potrebbe Crearci alquanto Un problemino Quindi io direi Che ci mangiavo Un po' di carne Visto che il pane Come fonte di energia Mi fa abbastanza schifo Non so a voi Ma cioè Io tipo Nella vita reale Amo il pane Perché su minecraft Deve fare così Cagare Cioè Eh eh Fatemi usare il pane Io voglio usare il pane Fatemi usare il pane No 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 Invece no Noi ti facciamo Fare un reggente Della vita Così di merda Che non potrei mai usarlo Grazie per le torce E ce ne andiamo Allora Quindi ritornando Al discorso di prima Molti di voi Mi hanno detto Che l'exit Sta staccando Un pochino E effettivamente Come vi avevo detto È una cosa Che sarebbe accaduta Prima o poi Anche perché In un modpack esplorativo Come questo A un certo punto Finisce le cose Da esplorare Cioè È una Legge matematica E non è che ci siano Tutti questa Tutta questa verità Di dungeon Alla fine Siamo sempre lì Torri Palazzi Adesso i vulcani Poi c'è la twilight Il boss Però il boss Della twilight L'abbiamo già visto Nella ftb Quindi non vorrei ripetermi Per quanto possibile E detto ciò Appunto E Detto ciò No 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 Detto ciò Mi avevate detto Bro si sente La mancanza Di un modpack Tecnico Allora Qui c'è un discorso Abbastanza complesso Da fare E in realtà Un modpack Tecnico A me Piacerebbe Farlo Perché Perché so Che è quello Che volete E a me Piace fare Appunto Quello Che volete Voi Ma 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 Piace fare Anche quello Che voglio Io Ovviamente Com'è giusto Che sia Per tutti I cristiani Che abitano Questa terra E E Quindi Mi sembra Appunto Una cosa Più che Palese L'unico Problema Grosso Davvero Davvero Grosso E che Io dovrei Mettermi Di nuovo A studiare Le mod Anche perché Da quanto so Sono cambiate Tantissimo Un sacco Di mod Ne sono uscite Tantissime nuove Quindi io Sono ritornato Già se prima Non sapevo Un cazzo Adesso Ne so Molto di meno Bro se muori Mi fai un piacere Cioè io Guardate se me li devo Massacrare Con l'arco Allontano Ho detto Cioè Mica è colpa mia Raga Cioè io Dico no 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 In questo dungeon In questo dungeon Non voglio usare Molto l'arco Oh La Oh E quindi Dicevamo Ci sono Questi problemi Per quanto riguarda Il mod pack Tecnico Allora Le mie idee Erano molteplici Se Vi va Per il mod pack Tecnico Io vorrei Creare qualcosa Davvero Di Più Convolgente Per voi Qualcosa Che appunto Vi coinvolga Nei video Vi faccia Partecipare Un po' Come era L'inizio Dell'ftb Se vi ricordate Con le sfide Ma qua In maniera Un po' Diversa Qua stiamo Crepando E la cosa Non ci piace Proprio per niente Quindi facciamo Facciamo un attimo Un comeback Per Per parlare Mentre Da lontano Massacriamo Massacriamo Tutto lo scheletro Perché Con quell'arco Lì E E Comunque Sti nani Picchiano Cioè Il nano Picchia Il nano Picchiatore No quello Il platano Picchiatore Di Harry Potter Però Siamo più o meno Lì Un albero Un nano Sono alti Più o meno La stessa cosa E quindi Ritornando Sul discorso Di prima Sapete che Mi perdo Come non so Che cosa Ogni volta Che parlo Ehm Volevo appunto Coinvolgervi In questa nuova serie Che Appunto Non so Ancora Su che Modpack Sarà fatto Ma Sarà fatto Allora La cosa Che mi era venuta In mente Era questa In pratica Io Creo una serie Nel mio solito Stile I tagli Quando servono Tagli Quando non servono Bla 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 E Andiamo a giocare Tutti insieme La cosa Che mi serve Da parte vostra E la collaborazione Sulla creazione Degli impianti Cioè Mi piacerebbe Che Il mio video Fosse un tramite Per far scambiare Tra di voi Tutti quelli Che mi seguono Ovviamente La vostra Conoscenza di minecraft In che modo In un modo Prima di tutto Io amplio La mia conoscenza Con le nuove mod Che ovviamente Non conosco E ovviamente Cercherò di Proporre qualcosa Di mio Come impianto Come ho sempre fatto Ma la cosa Che mi è piaciuta Soprattutto Che abbiamo iniziato A fare A fine FTB E' quella In cui Vari bro Tra di voi Mi mandavano Su facebook Lo screen Con i vari impianti Che avevano fatto Nel proprio mondo Con quel mod pack In cui mi dicevano Guarda bro Io ho fatto Che ne so L'impianto Derry Enderman L'ho utilizzato Ho utilizzato Questo item In questo modo Bla 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 E poi mi lasciavano La lista di item Che avevano utilizzato Con uno screen Di come avevano Collegato le cose Quindi Cosa significa Tutto ciò Significa che Semmai uno di voi Sa fare Un efficacissimo Un efficacissima farm Di iron E viene da me E mi fa Guarda bro Prova questo qua Io la realizzo Nel video Vediamo se riusciamo A migliorarla O a peggiorarla Solitamente Le peggioriamo Le cose Lo sapete E Vediamo se riusciamo A migliorarla O comunque A renderla Un po' più personale Ovviamente Citerò La persona Che mi ha aiutato Che mi ha proposto Questo tipo Di impianto In maniera tale Da Uno aiutare voi Se avete un canale Youtube E quant'altro E mi potete dire Guarda Randy Dimmi qua Nel video Dimmi che Chiamami Che ne so Pinco Pallo Perché il mio video Il mio canale Youtube Si chiama Pinco Pallo E quindi le persone Possono venire lì E trovare Altri Altri miei Altri miei video Altri miei impianti Eccetera Eccetera E quindi questo mi sembra Prima di tutto Un modo giusto E davvero interessante Per aiutare voi Seconda cosa Appunto Aiutate me Che Avendo poco tempo Appunto Non ho proprio Il tempo fisico Per potermi studiare Per bene gli impianti Se non appunto Andare a guardare Qualche video qua là Qualche immagine qua là Capire un po' Come funzionano i nuovi item Ma Alla fine Gli impianti grossi Lo sapete Richiedono Una profonda conoscenza Del Del Questo è un curatore Andiamolo un attimo A massacrare Chiedo scusa Una profonda conoscenza Delle mod E quindi Mi piacerebbe Mi piaceva proprio L'idea Del fatto che Ognuno di voi Tramite me Quindi mi utilizzate Tipo mezzo Di comunicazione Mi sento un po' Una puttana Detto così Sinceramente Però è una cosa Cioè Se lo devo fare per voi Mi fa più che piacere Oh signore Quanta gente C'è Quello è il boss Penso è quello Silverfish Oh 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 Ah no Spectra Ah Spectra Che cazzo è qui Eeeh Chiedo scusa E chiedo scusa Sì che chiedo scusa No allora Fermo Earthbringer Oh What Che cazzo è Pensavo fosse un nano Pensavo No 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 Resta Vai all'allarga Vai dentro la Quella dove cazzo sta Oh guardate Stanno picchiando Lo picchiano Lo picchiano di brutto Vai raga vai Picchiatolo Ma almeno Non da me Andate dall'Earthbringer Cazzo mi interessa Ma Perché i nani non vanno a fuoco Ma ci stanno andando Eeeh Nel senso A fuoco ci stanno andando Ma subiscono danno Bah Bah L'Earthbringer è morto Mi sa che è morto Scendiamo un po' giù Senza farci sto Eeeh Magari no Via 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 Eeeh Sì Mamma mia Che cazzo è Le miniere di Moira Eeeh Eeeh Salve Scusate Chiedo scusa Che Eh Potete lasciarmi la via libera Eh Ho degli ospiti Eh grazie Guardate che sono Come sono stati gentili Avete visto Un paio di frecce nei punti giusti Proprio al centro della Della fronte E guardate un po' Come sono stati gentili Da lasciarci appunto Questa bellissima Struttura Eeeh E io immaginavo Ci fosse Oh No 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 Che c'è un'esplosione Non fare questa cosa Bitch Ok Eeeh Ma andiamo Allora io questa la tolgo Perché Oh Questo lo togliamo Perché sicuramente c'è la lava Su Cioè Sgocciola Sgocciola Eccolo lì Quindi qua non c'è niente A parte un trappolozzo Che Beh abbiamo sventato La grande Oh Guardate È una stanza segreta E È segreta Più che altro Eeeh Mi sembra di Di sì Mi sembra di No Mi sembra di I don't know Eh forse sì Forse sì Non lo so Forse è generata così Vabbè Comunque Eeeh Abbiamo finito Questo dungeon speciale Dei nani Adesso però vorrei capire Se ci sono qualche chest Che mi sembra di avere Intravisto Da poter aprire Questo che roba Che Ah no Queste sono semplicemente Rotte Eeeh Dicevo qualche chest Da poter aprire Interessante Qualche droppino Un droppino If you know What I fucking mean Mamma mia Ma quanti Quanti siete Ma vi riproducete Tipo i conigli Ma non lo so Guardali Guardali Sono tantissimi Mamma mia Ok Oh La No 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 Nella lava Non mi piace Nella lava No 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 Ok Questo non c'è No 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 Muori Muori Non no no Non c'ho più vita Non c'ho più vita Ho solo mezzo cuore Ho solo mezzo cuore Mangia Randy Mangia Eeeh Raga il knockback Mi chiedo scusa Ma devo utilizzare L'arma power Perché senza questo Se no Ci lasciamo le penne E non voglio lasciarci le penne Ok Qua abbiamo un'altra chest Io direi di fare una cosa Bebe Bebe Ah ah Corri corri Randy Corri 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 No 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 Ok Allora io me la darei Proprio a gambe pesantissime Perché Siamo arrivati Ma siamo a livello zero Sì siamo a livello zero Perché non si vede un cazzo Sto andando completamente alla cieca Mi sto a grande mezzo mondo Aiuto Aiuto Sono morto Sono morto Io lo so di essere morto Qua non c'è da nulla A parte un tizio speciale Dove cavolo salgo Eeeh Salve C'è il posto per me Tipo per Porca troia Che paura C'è posto per farmi salire Da qualche parte Sì no Forse non lo so Ehi bro Salve Aiuto Sta venendo mal di cola Raga Eeeh Ok Eeeh Quindi dicevo appunto Per la serie mi piacerebbe Ideare questa cosa Aaaaaa Ecco perché vi fa tutto quel male Si è massacrata l'armor Merda Questa è una brutta notizia Ok allora io direi Di cambiare le scarpette Con le cloud boot Di passare per un passaggio segreto Che adesso vi faccio vedere Guardate Non ve lo immaginerete mai Ma qui c'è un passaggio segreto Esattamente lì Eeeh Bitch Ok Ce ne possiamo anche andare E quindi dicevo Per la nostra bellissima Ehm Per la nostra bellissima serie tecnica Che ovviamente Come già vi ho detto Vorrei fare Mi piacerebbe appunto Questo tipo di collaborazione Tra me e voi Eeeh Fatemi sapere nei commenti Se siete d'accordo Appunto Con una sponsorizzazione Tra virgolette Gratuita Ehm Per il vostro canale Se avete un canale youtube Oppure semplicemente Un ringraziamento E quant'altro Ovviamente Non posso fare tutti gli impianti Che mi chiedete Anche perché Io La cosa che vorrei farvi capire È che più impianti Mettete nel mondo Più la mappa diventa pesante Più i video diventano enormi Da caricare Quindi farò Quelli che mi piacciono di più Quelli che ritengo più utili E quelli che Appunto si adattano meglio Al mio stile di gioco E al Al mio Al mio progressing Qua ci siamo stati No Eeeh Lasciamo questi Ci prendiamo Le shiny bubbles E ce ne possiamo andare E quindi fatemi sapere appunto Per questa cosa Io Scappo Scappo tantissimo Perché quello mi fa un culo grande Quanto una capanna Una capanna Ok Eeeh Quindi appunto bro Fatemi sapere Quello che pensate Su questo Su questa cosa Su questo argomento Io In realtà sono davvero Eccitato All'idea Cioè Deve essere una capata Immaginatevi Di Avere inventato Un Fichissimo Impianto Che semmai Non conosce nessuno E visto che Vostro canale youtube Semmai Per sfortuna O perché l'avete appena creato O perché non ce l'avete Non Non riesce a avere Il meritato successo Che dovrebbe avere Lo date a me Se piace a me Io lo ripropongo Dico che l'avete fatto voi Ovviamente vi ringrazio E tutti Siamo più felici E contenti E' una cosa Che mi piace un sacco Davvero E' L'unico modo Che ho trovato Per potervi rendere Davvero partecipi E potervi anche Ringraziare In qualche modo E devo dire la verità Penso di avere avuto Una bella idea Poi ovviamente A voi la scelta Voi siete il pubblico Voi scegliete Voi decidete Bro Noi ci vediamo In un prossimo video Abbiamo fatto Stodeggio Che non so neanche Quanto è durato ma Io sono stanchissimo Non so se si sente Dalla voce Ma Tipo Questi giorni Comic Con Mi stanno massacrando Perché Chi è venuto Sa Che cosa Ho fatto E quindi Sono stato Davvero Attivissimo E E' stato Allucinante Allucinante Ma troppo bello Poi Di questo però Ne parliamo In un altro video Appunto Dedicato al Comic Con Di Napoli 2014 Noi ci vediamo In un prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino E venitemi a trovare Sulla pagina Facebook Che siamo vicini Alle 5.000 Iscrizioni Se arriviamo A 5.000 Sono contento E potremmo Anche vedere Di organizzare Un piccolo contest Semmai Con l'arrivo Del mio stipendio Qualche Kay Eh Eh Perfetto Quindi mi raccomando Venite Dateci giù Pesante con i like Sia a questo video Che alla pagina Facebook Condividete il video Se vi va E nulla Enjoy Iscriviti al nostro canale Bye Bye Bye